Nel Museo delle Arti Circensi a Parigi, nell'antico deposito di vini della città, nel quartiere di Bersin raggiungibile con la metro della linea 14, ecco il luogo dove portare i propri bambini e passare qualche ora di puro divertimento. All'interno dell'antica struttura si viene accolti da giostre ai giochi di antico sapore, dalle corse dei cavalli a quelle sull'antica giostra, dove i bambini vengono trainati dagli adulti che pedalano. Oltre alle sale interne, lo spazio esterno del museo offre posti di ristoro dove poter fare uno spuntino tra maschere, clown ed esibizioni. Per chi volesse invece mangiare più comodamente e poco lontano, il Village de Bersin offre un'ampia gamma di ristoranti e brasserie.